Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è a cura del pastore Davide Rostan. Ci ritroviamo anche oggi dagli studi di Radio Beckwith per il nostro culto e lo facciamo iniziando insieme raccogliendoci alla presenza del Signore. Signore tu oggi ci chiami nel tuo nome, che il tuo spirito sia per noi un'occasione di rinnovamento, che la tua parola sia una sfida a cambiare ed annunciare il tuo regno. Ascoltiamo insieme dal Salmo 78 i versetti da 1 a 7. Ascolta, popolo mio, il mio insegnamento. Porge tu orecchio alle parole della mia bocca. Io aprirò la mia bocca per esprimere i parabole, esporrò i misteri dei tempi antichi. Quel che abbiamo udito e conosciuto e che i nostri padri ci hanno raccontato, non lo nasconderemo ai loro figli. Diremo alla generazione futura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che gli ha operato. Egli stabilì una testimonianza in Giacobbe, istituì una legge in Israele e ordinò ai nostri padri di farle conoscere, ai loro figli. Perché fossero note alla generazione futura, ai figli che sarebbero nati. Questi le avrebbero così raccontate i loro figli. Perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio ma osservassero i Suoi comandamenti. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore insegnaci a guardare lontano, insegnaci a raccontare quanto Tu hai fatto nella nostra vita e nelle generazioni passate. Insegnaci a ritornare a Te per annunciare che la nostra salvezza è nella Tua promessa e non nei nostri tentativi di accomodarci la vita a nostro vantaggio. Aiutaci a trasmettere l'annuncio della liberazione che viene da Te soltanto anche alle prossime generazioni. Rinnova il nostro spirito ormai spento e dacci il coraggio di annunciare nuovamente e profondamente la Tua parola. Amen. Ascoltami, popolo mio, tu gran timor con unità, Dio sono al suolo, eterno invito, Dio compilato a libertà. 있�ò il nostro rapporto che la tentazione di aiuto. E questo pensare che lo fuori, ho visto che iFTδaperti devi ancora la prima cosa che vii Ho visto, se ho visto molto più atteso, ins doses perfetto, avuto a har我안 un oem perdrizza. L'oggi è stato di aiute e non puro. Il nome di Dio novitoso, il canto mai non pronunziare, c'è il bel giorno del riposo, la canto dei vittori sacri. Il testo di oggi è la storia molto nota, molto conosciuta della manna. Ve la leggo dall'inizio per farci comprendere meglio dove siamo. Nel deserto tutta la comunità dei figli di Israele partì da Elim e giunse al deserto di Sin, che è tra Elim e il Sinai. Il quindicesimo giorno del secondo mese, dopo la loro partenza dall'Egitto, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè e contro Aronne nel deserto. I figli di Israele dissero, fossimo pure morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo pane a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore disse a Mosè, ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi, il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammino o no secondo la mia legge. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che hanno portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni altro giorno. Mosè e Aronne dissero a tutti i figli di Israele, questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto. Domattina vedrete la gloria del Signore, poiché gli udite i vostri mormori contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? E Mosè disse, vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi dà la carne da mangiare e domattina pane a sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di lui. Noi infatti che cosa siamo? I vostri mormori non sono contro di noi, ma contro il Signore. Siamo dunque nel deserto e c'è subito questa lamentela, questa protesta contro chi li guida e implicitamente quindi anche contro Dio. E la lamentela è guidata da quella che noi oggi definiremmo una memoria parziale. Fossimo pur morti nel mano del Signore d'Egitto quando sedevamo intorno a Pentole e Piene di Carne. In Egitto non ci sono affatto pentole piene di carne, sappiamo benissimo che vivevano in schiavitù ed è questo il motivo per cui se ne sono andati. Però spesso ci capita di guardare al passato, quando c'è una situazione difficile, come un glorioso, eterno e migliore passato, anche quando non è così vero o quando è così lontano e appartiene talmente tanto alle altre generazioni che noi non ne riconosciamo i danni. C'è questo dialogo tra Mosè e Aronne e il popolo di Israele nel quale evidentemente Mosè e Aronne riportano ciò che Dio gli ha detto. Dio gli ha detto che farà piovere del pane e gli darà della carne. E in qualche modo questo servirà da provvista da parte di Dio per i nostri beni quotidiani. Anche questo è importante. C'è una relazione tra l'aiuto che Dio dà rispetto alla nostra crisi materiale e il rapporto che intratteniamo con Lui, un rapporto spirituale, le due cose non sono slegate. E questo viene in qualche modo anche rappresentato dal fatto che il Signore si raccomanda per bocca di Mosè e di Aronne che il sesto giorno, il giorno prima del sabato, se ne raccolga di più in modo che basti per entrambi i giorni. Il racconto va avanti e ci dice così. Poi Mosè disse ad Aronne Dio e tutta la comunità dei figli di Israele avvicinatevi alla presenza del Signore perché gli ha udito i vostri mormori. Mentre Aronne parlava a tutta la comunità dei figli di Israele questi volsero gli occhi verso il deserto ed ecco la gloria del Signore apparire nella nuvola. Il Signore disse a Mosè Io ho udito i mormori dei figli di Israele parla loro così al tramonto mangerete carne e domattina sarete saziati di pane e conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. La sera stessa arrivarono delle quaglie che ricoprirono il campo. La mattina c'era uno strato di rugiada intorno al campo e quando lo strato di rugiada fu sparito ecco sulla superficie del deserto una cosa minuta, tonda, minuta come brina sulla terra. I figli di Israele quando le brovissa si dissero loro l'un l'altro che cos'è perché non sapevano che cosa fosse. Mosè disse loro questo è il pane che il Signore vi dà da mangiare. Ecco quello che il Signore ha comandato ognuno ne raccolga quanto gli basta per il suo nutrimento. Un omer a testa secondo il numero delle persone che vivono con voi ognuno ne prenda per quelli che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così ne raccolsero gli uni di più e gli altri di meno. Lo misurarono con l'omer chi ne aveva raccolto molto non ne ebbe in eccesso e chi ne aveva raccolto poto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro nessuno ne conservi fino a domattina ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani quello imputridì e fu infestato dai vermi. E Mosè si adirò contro costoro. Così lo raccoglievano tutte le mattine ciascuno nella misura che bastava il suo nutrimento e quando il sole diventava caldo quello si scioglieva. Il sesto giorno raccorsero il doppio di quel pane due omer per ciascuno. Tutti i capi della comunità vennero a dirlo a Mosè ed egli disse loro questo è quello che ha detto il Signore domani è un giorno solenne di riposo un sabato sacro al Signore fate cuocere oggi quello che avete da cuocere fate bollire quello che avete da bollire tutto quello che vi avanza riponetelo e conservatelo fino a domani. E si dunque lo misero da parte fino all'indomani come Mosè aveva ordinato e quello non imputridì e non fu infestato dai vermi. Mosè disse mangiatelo oggi poiché oggi è il sabato sacro del Signore oggi non ne troverete nei campi raccoglientene durante sei giorni ma il settimo giorno è il sabato in quel giorno non ve ne sarà. Il settimo giorno alcuni del popolo uscirono per raccoglierne ma non ne trovarono allora il Signore disse a Mosè fino a quando rifiuterete di osservare i miei comandamenti e le mie leggi guardate che il Signore vi ha dato il sabato per questo il sesto giorno egli vi dà del pane per due giorni perciò ognuno stia dov'è nessuno esca dalla sua tenda il settimo giorno così il popolo si riposò il settimo giorno. La casa di Israele chiamò quel pane manna esso era simile al seme del coriandolo era bianco e aveva il gusto di schiacciata fatta col miele. Mosè disse questo è quello che il Signore ha ordinato riempi un omer di manna perché sia conservato per i vostri discendenti perché vedono il pane col quale vi ho nutreti nel deserto quando vi ho fatto uscire del paese d'Egitto e Mosè disse ad Aronne prendi un vaso mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore perché sia conservato per i vostri discendenti. Secondo l'ordine che il Signore aveva dato a Mosè Aronne lo depose davanti alla testimonianza poiché fosse conservato. I figli di Israele mangiarono la manna per quarant'anni finché arrivarono in terra abitata mangiarono la manna finché giunsero i confini del paese di Canano. In questo racconto troviamo due dei comandamenti più tipici di Israele che vengono in qualche modo illustrati e spiegati prima che poi la legge venga donata. l'unicità di Dio è il giorno del riposo il giorno del sabato. Dio ascolta il lamento come ha già fatto quando il popolo di Israele è in schiavitù e provvede a soddisfare le richieste materiali oltre che spirituali. Fornisce queste quaglie e il giorno dopo compaiono oltre alle quaglie queste palline che infatti vengono chiamate manna perché manu vuol dire che cos'è è un interrogativo. Una polpa biancastra prodotta dall'albero delle tamerici che produce questa specie di polpa zuccherina che effettivamente si può in qualche modo impastare e farne quella che noi oggi chiameremo una piadina. Ma essendo molto dolce se la si lascia al sole si scioglie poi si riraffredda di notte ma ovviamente gli zuccheri fermentano e marciscono. Affidarsi a Dio vuol dire affidarsi a Lui ed uno a noi stessi che è quello che qui accade. Quello che accade è che il popolo non si fida di quello che Dio gli ha detto. Il popolo pensa che tutta la manna vada raccolta. anche di sabato escono per raccoglierne ed è quello che noi siamo abituati a fare da secoli. Siamo abituati a fidarci unicamente di noi stessi e siamo abituati a stipulare assicurazione mettere i nostri soldi in banca per assicurare un avvenire a noi e a chi verrà dopo di noi. Siamo abituati a dire che bisogna contare solo su se stessi e che chi fa da sé fa per tre. solo di fronte alla malattia grave o alla morte ci rimettiamo nelle mani di Dio. La nostra gestione del creato del pianeta si fonda sul principio dell'accumulo cioè sul mettere la banna da parte finché ce n'è più che ce n'è. Il principio del magazzino quello che in qualche modo aveva avuto successo nel regno d'Egitto del faraone quando Giuseppe gli consiglia in tempi di vacche grassa di mettere da parte il grano. Ma il principio su cui Dio vuole che noi fondiamo la nostra gestione del creato è un altro. Noi continuiamo ad accumulare soldi continuiamo ad accumulare beni chi di più chi di meno una volta erano oro ferro o sale oggi sono titoli azionari soldi affidarsi a Dio invece vuol dire che non saranno i nostri depositi i nostri magazzini pieni a salvarci la vita e a garantircela. Le risorse nel mondo esattamente come la manna non sono illimitate e sono un dino di Dio e noi sappiamo benissimo che se ne accumuliamo troppo se ne mettiamo di più nel nostro magazzino e non ci limitiamo a prenderne come ci dice qui il nostro testo un omer ciascuno ognuno secondo quello che gli serve ci sarà qualcuno che inevitabilmente non ne avrà abbastanza per sfamare la sua tenda come dice il testo e così cominceranno i guai e il Signore lo sa sa che noi accumuliamo per paura perché non ci fidiamo di Lui e preferiamo invece fidarci del mettere da parte la manna ci fidiamo di più dei nostri magazzini pieni che della parola di Dio e il Signore sa che se qualcuno rimarrà senza che cosa farà? cercherà prima o poi di appropriarsi di quello che si sono presi gli altri ci sarà sempre fino a quando noi continueremo ad appropriarci di manna riempirne i magazzini qualcuno che giustamente partirà per andare a prendersi un po' della manna che hanno gli altri ed è l'unico motore che governa il mondo governa la guerra governa le immigrazioni governa la nostra competitività governa il nostro strenuo sforzo di riempire il magazzino sempre di più perché questo ci dà fiducia e questo testo oggi ci racconta che nonostante i 3.000 anni di storia nonostante tutta la vicenda biblica che si viene dopo nonostante le predicazioni di Gesù nonostante milioni di morti che ne sono venuti dopo noi in fondo siamo ancora allo stadio del popolo di Israele che nonostante Dio abbia ampiamente dimostrato che è in grado non solo di salvarci di darci la liberazione materiale oltre che spirituale non ci accontentiamo delle quaglie non ci accontentiamo di parlare del passato falsificando e inventandoci che si stava molto meglio nel passato quindi non riconosciamo i doni dell'oggi continuiamo a tentare disperatamente di ficcare in magazzino un po' di manna in più e la manna non la si può aumentare all'infinito anche questo lo sappiamo si possono falsificare i prodotti si possono moltiplicare le produzioni agricole si può aumentare la produzione di carne e lo si fa a discapito della qualità in qualche modo anche il cibo marcisce come la manna se aumenta troppo perché per nutrire sempre di più milioni e milioni di persone che vogliono sempre di più per produrre sempre più cose da mettere da parte per avere sempre più denaro da mettere nei magazzini inevitabilmente noi non soltanto produciamo guerre o migrazioni drammatiche ma produciamo anche un cibo marcio pieno di chimica pieno di antibiotici che diamo agli animali pieno di concimi fertilizzanti dannosi esattamente come la manna l'intero creato marcisce marcisce perché non si fonda sulla fiducia da dare a Dio ma si fonda sulla fiducia riposta nei titoli azionari marcisce nei bilanci miliardari degli armamenti costruiti per difendere i magazzini marcisce nell'acqua che non è più un bene pubblico ma è diventato sempre più un bene privato marcisce nella vita di chi l'ha costretto a lasciare la sua tenda perché non c'ha più manna all'intorno e quindi deve andare dall'altra parte a vedere se qualcuno gliene dà un po' o a prendergliela marcisce perché appunto per aumentare la produzione della carne noi non ci fidiamo del fatto che il Signore ce ne dà un po' e ci accontentiamo di quella ma ne vogliamo sempre di più e quindi la nostra carne il nostro cibo è piena di sostanze chimiche marcisce negli animali che si ammalano e di cui poi non possiamo più mangiare la carne come spesso è capitato negli ultimi decenni marcisce il creato anche nelle battaglie legale fatte sui diritti dei brevetti per la ricerca genetica e il cibo transgenico e come paradosso finale il mondo marcisce nelle discariche nell'immensità delle nostre discariche piene di rifiuti della sovrapproduzione di tutto ciò che produciamo che non sappiamo più dove mettere dopo averlo utilizzato l'unico caso in cui il Signore in questo racconto concede al popolo di conservare e mettere da parte qualcosa è il giorno prima del giorno del riposo perché di sabato ci si ripose e quindi il giorno prima il Signore dice al suo popolo raccoglietene il doppio questo è importante perché ricorda il popolo di Israele e quindi anche a noi l'importanza di un giorno di riposo prima ancora che il giorno sacro al Signore o come spesso viene celebrato nelle nostre società nelle nostre comunità come un momento di svago di divertimento a volte di riposo a volte di festività religiosa il giorno del sabato è un giorno di riposo concesso in contrapposizione a quella situazione in cui il popolo di Israele era prima cioè quella di schiavo lo schiavo non ha un giorno libero il popolo di Israele liberato dalla terra d'Egitto invece ha un giorno libero in cui non deve preparare nemmeno la manna lo si prepara prima non deve bollire la carne la si prepara il giorno prima il riposo vuol dire poter essere liberi ma è il fondamento della nuova creazione di questo Dio non siamo più schiavi del doverci fidare unicamente dell'opera delle nostre mani perché Dio provvederà ai nostri fabbisogli e quindi il sabato si può fare a meno di produrre di lavorare e di mettere manna nei magazzini il giorno di sabato è quindi il giorno dedicato a Dio in particolare alla preghiera intesa come esplicitazione dell'affidarsi a Lui a Lui infatti chiediamo nella nostra preghiera il pane quotidiano il pane quotidiano che non è quello per accumulare ricchezze non è quello da togliere agli altri per metterli nel magazzino non è quello che se ne produce di più in modo da mettere da parte per poi rivenderla come fece appunto Giuseppe in Egitto che aveva il monopolio per conto del faraone e in qualche modo sottrae non solo ai cittadini e ai contadini la terra ma poi gli sottrae anche gli strumenti di lavoro e alla fine rende tutti schiavi il giorno di sabato è un giorno da celebrare perché ci ricorda la liberazione da ogni tipo di oppressione e ci ricorda anche però che di questa libertà non dobbiamo abusarne per ritornare sotto la schiavitù del nostro desiderio di accumulare sempre di più perché anche quella è una forma di schiavitù la schiavitù che nasce dal fatto che non ci fidiamo che ce ne sarà per tutti e quindi lavoriamo sempre di più lavoriamo sempre dobbiamo essere flessibili reperibili efficienti ottimizzare i tempi che sono i dogmi della nostra condizione lavorativa vivere secondo la parola di Dio vuol dire vivere secondo una scadenza settimanale nella quale Dio interviene quotidianamente per darci ciò di cui abbiamo bisogno e non di più vivere per gioire della creazione di un Dio di cui siamo parte e non confidando in ciò che possiamo comprare con il contenuto dei nostri magazzini o con il nostro conto in banca vivere facendo in modo che tutti possano ricevere da Dio almeno la porzione di manna che permette a loro di vivere questo è il senso della nuova creazione e questo è il senso anche del nostro culto quotidiano e sarà ciò che verrà ricordato e ciò per cui si pregherà nel giorno di sabato il giorno di sabato in fondo rappresenta il fermarsi il ribellarsi al ritmo incessante schiavaistico drammatico dell'economia moderna vuol dire ribellarsi anche al dogma del consumo che fa marciare un'economia e distrugge il nostro pianeta il nostro creato vuol dire ribellarsi alla legge dell'accumulo a quella dei magazzini a quella dell'interesse ribellarsi alla legge dell'assicurazione privata io mi salvo attraverso ciò che ho messo nel magazzino tutto il resto non importa e tutto questo se noi lo ascoltiamo effettivamente ci pare assurdo folle infattibile che è esattamente quello che pensavano gli israeliti quando in mezzo al deserto piovono quaglie e manna e i loro condottieri le loro guide Mosè Aaron gli dicono guardate che il signore ha detto che non dovete raccoglierlo tutto e loro giustamente dicono che siete pazzi siamo in mezzo al deserto c'è del cibo io raccolgo tutto quello che c'è che non si sa mai e loro dicono ma il signore ha detto che vi potete fidare domani ce ne sarà dell'altro e loro dicono tanto io raccolgo e vanno avanti così e persino il sabato dopo che hanno visto lunedì martedì mercoledì sei giorni arrivano al sabato il signore gli ha detto guardate che ve l'ho dato tutti i giorni il venerdì ve ne do un giorno di più e comunque loro escono il sabato mattina fuori presto per raccattare tutto quello che trovano dei pazzi totali e noi in fondo quando ascoltiamo questo discorso lo ascoltiamo così come una favoletta che l'abbiamo sentita un sacco di volte la scuola domenicale nella vita e continuiamo a pensare che è una roba da pazzi eppure effettivamente così il giorno di sabato quindi lo possiamo chiamare anche come il giorno per ricordare l'assurdità la totale assurdità della fede in Dio che ci sembra molto meno certa dei nostri magazzini pieni e molto meno rassicurante degli zeri nel conto in banca e per ricordare l'assurdità ma anche l'assoluta certezza che Dio ci ha liberato della schiavitù e ci ha messi nel creato affinché lo custodissimo al meglio e ognuno ne avesse di che vivere noi oggi possiamo mettere da parte come Israele un Homer di Manna che ci serva di memoria per quando ci sarà la prossima tragedia la prossima pandemia la prossima guerra la prossima crisi finanziaria e ce lo teniamo lì in modo da non dover poi riguardare il passato dicendo ah come si stava bene quando c'erano i pentroni pieni di carne no lo teniamo lì come una misura di cose che ci appartengono ma che mettiamo da parte non per farci interesse non per rivenderlo non per costruirci qualcosa ma per donarlo a Dio come memoria per chi verrà dopo di noi lo possiamo considerare come una misura di pane che viene tolta da quello che possediamo affinché ci ricordiamo ogni giorno che Dio ha provveduto e continua a provvedere ai nostri bisogni materiali sia nella straordinarietà liberandoci dalla schiavitù sia nel quotidiano dandoci da mandare il giusto e nella nuova creazione che adesso abbiamo davanti e di cui siamo parte non c'è spazio per ricordare il cibo del faraone ma ci deve essere invece la memoria della liberazione della schiavitù affinché i doni che abbiamo ricevuto noi non vengano utilizzati per farne pessimo uso come noi invece facciamo e affinché per paura di non averne abbastanza non si rischi di far marcire tutto a cominciare dalle vite di coloro a cui abbiamo sottratto invece c'è la loro razione di pane Amen da figli d'un solo riscatto d'amore un benesimo fatto di fede di spene di piccola insieme col nostro possente Signore fratello solleva il fratello oppresso da grave il fratello esulta sei gode le cantane lode al profito nostro Signore concludiamo adesso raccogliendoci in preghiera e ricevendo la benedizione che il Signore ci offre Signore riceviamo con gioia il tuo perdono che ci rinnova e vogliamo esprimere il nostro ringraziamento lodandoti il tuo perdono il perdono del nostro peccato è il fondamento della nostra nuova identità che ci permette di annunciare il tuo regno che viene poiché ne abbiamo già sperimentato la realtà che la tua parola ci accompagni e ci guidi nei giorni che verranno Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione è stata curata dal pastore Davide Rostan